Milan-Venezia termina con 2 a 0 per il Milan questa partita di ieri 22 settembre 2021 dove il Milan ha giocato veramente bene secondo la mia opinione ed ha vinto questa partita il Milan ha giocato in casa sua quindi di conseguenza anche il fatto di aver giocato in casa potrebbe aver aggiocolato le cose e potrebbe diciamo così aver portato il Milan alla vittoria. Una coppia di gol davvero magnifica a fermare i due cose sono stati Brahim Diaz al 68esimo minuto del gioco del secondo tempo e Hernandez al 82esimo minuto del gioco del secondo tempo un secondo tempo dove il Milan domina completamente la scena calcistica un primo tempo invece dove purtroppo secondo me si è lasciato leggermente dominare dal Venezia il risultato penso che già si sapeva quale fosse ossia la vittoria del Milan sul Venezia infatti molti già sapevano e alluda ai giocatori tanti giocatori che ci sono in mondo ma in Italia tanto che hanno puntato proprio sulla vittoria del Milan sul Venezia cosa che poi si è verificata il video termina qua iscrivetevi al canale narratore italiano commentate fatemi sapere cosa ne pensate un cordiale saluto italiano e in realtà dobbia di armi